favoritissima Stasi Cup che comunque adesso è salita a 1.36 ma il gioco è ovviamente ancora aperto quote in evoluzione ma tutto è pronto, va in partenza la prima corsa di Palermo prima corsa di Palermo indigeni di 4 anni guidati dagli allievi chiari favori al gioco per il numero 2 Stasi Cup si va allo stacco, stacco che avviene in questo istante che vede l'ottima partenza della favorita Stasi Cup che mantiene il comando delle operazioni precedendo Serenere Chiu che ha preso un buon lancio e si sistema in seconda posizione precedendo il numero 8 di Silvano Lux, Stasi Cup dunque sta completando la prima curva al comando dietro la lieva di Natale Cintura guidata dal di lui figlio Salvatore si è sistemata Serenere Chiu poi Spatola Jet mentre qualche problema per Silvano Lux che ha dovuto spostare nel frattempo viene avanti con fare piuttosto convinto il numero 6 di Sirio AS primi 600 metri in 44 e 4 da 1 e 14 al chilometro per la capofila Stasi Cup seguita da Serenere Chiu e Sirio AS adesso prende in mano direi anche intelligentemente Dario Di Maio per evitare tutta la corsia esterna e sfruttare il varco lo sposto lasciato a steccato dal calo di Spatola Jet continua a guidare direi con buona disinvoltura la capofila Stasi Cup che peraltro sta tirando via forse anche un po' troppo 1.14.6 il primo chilometro mette in difficoltà un po' tutti ma deve stare attenta all'appostata Serenere Chiu che sembra bene in mano al suo interprete Antonino Pecoraro Junior sbaglia nel frattempo e viene squalificato Snapper Starlight mentre dopo corsa molto travagliata comunque Silvano Lux prova ad emergere quantomeno per il terzo posto l'errore di Serenere Chiu che esce di scena quando si profilava già una coppiata ben arrivata 2-1 continua senza troppi problemi ormai direi con un vantaggio incolmabile Stasi Cup che va a chiudere nettamente al primo posto mentre per la piazza è Silvano Lux a precedere probabilmente Sire di Azzurra che però è stato completamente apparegliato da un altro cavallo ha vinto comunque in maniera davvero splendida la Stasi Cup che sul mio cronometro ha un tempo che dovrebbe essere attorno all'1.14.3-1.14.4 quindi prestazione coi baffi per la portacolori del signor Francesco Paolo Gianguzza guidata da Salvatore Cintura Junior allenatore Natale Cintura quota di 1.42 dopo l'errore di Serenere Chiu un validissimo Silvano Lux ha portato a casa il secondo posto mentre andiamo adesso a rivedere il finale per il terzo vedete due cavalli molto molto vicini e ebbe probabilmente per un filo Stuart Blond ha piegato Sire di Azzurra ma è chiaro che dovremo attendere il risponto del fotofinish dunque 2.8 e foto fra 4 e 11 questo è l'ordine d'arrivo ancora da confermare della prima corsa di Palermo ciao a Grazie a tutti